L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del centro dei cartomanti europei, chiama 1-0773-49-3660. Ariete Una sorpresa vi strapperà un sorriso, sentirvi considerati e importanti potrà esservi solo d'aiuto per rendere al massimo le vostre possibilità alle attività odierne. Fate attenzione a mantenere la concentrazione necessaria per lo svolgimento delle vostre mansioni, in amore sentirete di avere le idee chiare. Stringete i denti, si presenteranno situazioni da risolvere una dopo l'altra, siate concreti in amore e concederete fruttuosamente il vostro tempo. Gemelli Qualche intoppo di troppo, nonostante le difficoltà vi renderete conto che le cose importanti sono ancora intatte, in amore cercherete di spiegare le vostre ragioni. Cancro La gentilezza pagherà, riceverete un ecomio per la vostra bravura e la disponibilità in ambito lavorativo e la soddisfazione non si tradurrà in una gratificazione economica ma i tempi sono quasi maturi anche per ottenere di più, in termini di soldi. In amore avrete voglia di divertimento e romantiche attenzioni. Leone Spostamenti in vista vi porterà e vi riserverà una simpatica novità sotto forma di conoscenza personale. In amore dovrete mettere in chiaro alcuni aspetti imprescindibili. Vergine Dovrete fare una scelta sul lavoro, sarà per voi difficile trovare l'equilibrio con i colleghi che appaiono ostici e allora sorridete e tutto si appianerà. In amore rivaluterete quella che pensavate essere soltanto un'amicizia. Bilancia Siate concreti, avete bisogno di tutta la vostra capacità di mediazione e di un bel po' di sangue freddo. Ogni scelta andrà ponderata dando il giusto peso e fatti e persone. La famiglia ricoprirà un ruolo fondamentale nelle decisioni che assumerete. In amore un pensiero fisso vi porterà a viaggiare con la mente. Scorpione Correre ovunque, cercando consensi da chiunque, non è di certo opera facile da compiere e io fossi in voi mi fermerei di certo a domandarmi perché. Un consiglio però accettatelo da me. Cercate di ascoltare solo voi stessi e di seguire di più il vostro istinto. Sagittario Pianificare tutto vi aiuterà a non tralasciare niente. Sarà bene evitare di iniziare troppe cose contemporaneamente perché non riuscireste a concludere nulla. Un ritardo sul lavoro vi potrebbe procurare qualche fastidio ma riuscirete a recuperare la situazione grazie alla vostra solersia. In amore il silenzio riuscirà a schiarirvi le idee su alcune questioni. Capricorno Tutti vi faranno apparire un po' freddi e distanti da una situazione non familiare ma lavorativa o sociale che vi innervosirà un pochino in quanto voi riterrete di avere delle ottime ragioni. In amore una telefonata o un messaggio in più di chi amate non guasterebbe. Acquario Soldi, fortuna e amore si dice che non possono camminare a braccetto ma io non ci credo visto le bellissime prerogative di come è iniziata per molti di voi la giornata. Queste fortune appunto non vi mancheranno nel lungo elenco di belle fortunate soddisfazioni che con la vostra costanza amorevolezza riuscirete a raccogliere come sospirati frutti. Pesci La passione condizionerà le vostre azioni farete quindi di tutto per dimostrare a qualcuno che potete tranquillamente cavarvela da soli anche se l'opera riuscirà a metà dato che esternamente sembrate padroni della situazione ma internamente vivrete una grande ansia. In amore dovrete disciogliere l'attenzione da un pensiero fisso. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del centro dei cartomanti europei. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.it Grazie